È arrivato sul tavolo del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica il tema dello spaccio e dell'uso di sostanze stupefacenti affrontato con particolare riferimento ad alcune zone dei comuni di Morbegno, Cosio Valtellino e Mantello, i cui sindaci hanno preso parte alla riunione, anche se la Valtartano, la Valgerola, la Costiera dei Cech, da Santa Croce di Civo fino a Dazio e anche i paesi di Piantedo e Delebio hanno vissuto negli ultimi anni lo stesso problema. La questione, comunica la Prefettura, che può e deve essere affrontata sia sotto il profilo sociale che in termini culturali, vede impegnate in prima linea e in modo costante tutte le componenti delle Forze dell'Ordine e delle Polizie locali, secondo precisi schemi operativi, di indagini e di info-investigativi, i cui risultati, come recentemente dimostrato da brillanti operazioni e dai riscontri ottenuti a seguito di mirati servizi effettuati nelle scuole con l'utilizzo di unità cinofile, sono evidenti. L'ultima delle operazioni condotte dalle Forze dell'Ordine ha interessato i boschi tra Buglio e Monte e Berbenno e ha portato all'arresto di sei persone coinvolte nell'attività di spaccio. In quel caso, come in diversi precedenti che hanno riguardato le zone della bassa Valtellina, l'input alle indagini è venuto proprio dagli abitanti, preoccupati e a volte addirittura esasperati dagli evidenti movimenti anomali in zone poco frequentate a ridosso dei paesi. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza riconosce l'importanza della collaborazione della cittadinanza fornita attraverso segnalazioni e denunce, definendola di essenziale apporto per l'opera delle forze di polizia al fine di massimizzare l'efficacia dell'impegno e concretamente profuso nel contrasto al fenomeno e indica che, considerato l'incremento della domanda di questa sostanza, risulta necessario agire in prima battuta a livello familiare e di formazione in un'ottica preventiva.